Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Partiamo subito con i titoli degli argomenti che affronteremo all'interno di questa puntata. TPL Toscana, il Consiglio di Stato boccia il ricorso di Mobit. PNRR, il dibattito in Consiglio, approvate mozioni di PD e Lega. L'Aula del Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza la mozione del Partito Democratico, primo firmatario il capogruppo Vincenzo Ceccarelli, per la costituzione di un tavolo tecnico consultivo permanente composto da esperti qualificati e studiosi sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Approvata sullo stesso argomento, la mozione presentata dalla Lega affirma di Elisa Tozzi che impegna la Giunta a costituire un'unità di coordinamento, cabina di regia regionale, per istituire un raccordo politico, strategico e operativo tra regione, enti locali, città metropolitane e ministeri di riferimento sul modello di quanto previsto a livello nazionale. L'importante è l'anticipazione dei 25 miliardi, la possibilità quindi di vedere partire subito progetti che chiaramente i primi sono quelli a cui ha dato a livello di priorità il Governo e sarà un po' il Governo a sceglierlo. Spesso viene considerato il PNR come qualcosa da dividere per 20 regioni, nulla di più sbagliato. L'approccio con cui l'autorevolezza del Presidente Draghi si è rivolto all'Europa è l'autorevolezza di un Capo di Stato che naturalmente avrà tutta l'applicazione nell'indirizzare per il meglio quello che sarà già la prima anticipazione e quindi i primi progetti. Quindi va vissuto in chiave nazionale e in chiave nazionale l'importante è che la Presidenza del Consiglio scelga subito i progetti giusti per essere credibili con l'Europa e questo significa progetti cantierabili da subito perché siano completati entro il 2026. Poi di riflesso ogni regione avrà il suo vantaggio perché è un volano che fa ripartire l'economia e noi siamo lì pronti e attenti naturalmente nel contesto di questo indirizzo nazionale che è prerogativa del Capo di Governo e su cui è impostato il rapporto con l'Europa attraverso il PNR. Il PNRR sarà una grande opportunità per la Toscana e a questo si affiancheranno anche le risorse della programmazione ordinaria del 2021-2027. Quindi occorre che di fronte a queste opportunità la Toscana sia coesa, sia unita, sia coordinata nel presentare una proposta che sia coerente con le missioni che indica l'Europa quindi quella della transizione verso un'economia più ecologica, del superamento delle differenze tra territori e tra genere, di uno sviluppo sostenibile, di una maggiore coesione sociale. Per far questo occorre che la Regione svolga una cabina di regia importante nei confronti dei territori di quella che sarà la capacità progettuale dei comuni, delle province, i suggerimenti che verranno dalle imprese e crediamo che se ci sarà un board di alto profilo in grado anche di dare suggerimenti rispetto alla coerenza e alle priorità per raggiungere questi obiettivi noi riusciremo meglio a cogliere queste opportunità. A me fa piacere che l'Aula abbia accolto la proposta che ho sottoposto alle altre forze politiche perché ovviamente la progettualità possa nascere dal basso, possa essere un progetto e progetti diciamo condivisi da soggetti pubblici e privati ma una coprogettualità che faccia partecipi alla Regione Toscana delle esigenze dei territori al cospetto anche ovviamente di una politica nazionale che sarà quella che poi alla fine definirà le progettualità finale, tempi ed esecuzioni. Quindi una discussione che entra nel merito ma la notizia importante è che oggi l'Italia ha approvato il proprio progetto. Questo non era scontato se solamente tre mesi fa avessimo avuto un altro governo. Il cambio di governo, il Presidente Draghi ha dato l'opportunità all'Italia di essere autorevole. Noi abbiamo 190 miliardi da gestire nei prossimi anni e questo è anche merito ovviamente del Presidente Draghi ma in particolar modo anche l'Italia Viva che con l'operazione politica che ha attuato inizialmente magari non compresa oggi rende tutto questo possibile. Una discussione sul PNRR che ci trova soddisfatti perché il Consiglio regionale ha recepito quella che è stata la richiesta di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia fin da subito ha denunciato un'anomalia in quello che veniva chiesto. Oggi sia la maggioranza sia la minoranza chiedevano l'apertura di un nuovo tavolo di confronto sulla gestione dei fondi che arriveranno in Regione Toscana, la creazione di una cabina di regia per decidere su come spendere questi soldi, mancava a nostro modo di vedere il coinvolgimento del Consiglio regionale. Noi abbiamo chiesto a gran voce che venisse coinvolta, abbiamo presentato gli emendamenti che sono stati recepiti e il fatto che la maggioranza abbia recepito le indicazioni di Fratelli d'Italia fa presagire che ci sia la volontà di dialogo. Questo perché noi rivendichiamo il ruolo della politica. In Toscana stanno per arrivare tantissimi soldi, 760 miliardi di euro, oltre la metà andranno restituiti. Quindi sulle spalle nostre che siamo i rappresentanti dei cittadini, i cittadini hanno eletto noi per stare a rappresentare il Consiglio regionale, vi è una responsabilità tale da impegnare non noi ma tre generazioni dopo la nostra. È stata una discussione molto positiva, io credo che oggi abbiamo dimostrato sia la maggioranza ma anche l'opposizione di poter lavorare veramente nell'interesse dei toscani. Io lo definisco un piccolo capolavoro perché siamo riusciti a trovare la sintesi su un atto fondamentale per noi, ovvero quello della necessità di mettere in piedi finalmente quella cabina di regia, quell'unità di coordinamento che da troppo tempo attendiamo. Ieri il nostro Presidente del Consiglio Draghi ha incontrato la Presidente Vordellain. Siamo davvero nell'imminenza di una sfida storica che deve però vedere anche la regione toscana preparata. Ora toccherà alla Giunta dare attuazione subito e immediatamente a quelli che sono degli indirizzi chiari del Consiglio. Il Consiglio certamente rivendica il suo ruolo di stimolo e anche di informazione perché sarà essenziale puntare su un coordinamento in questo momento proprio tra Giunta Consiglio ma soprattutto il coinvolgimento degli enti locali e di tutte quelle associazioni, di tutte quelle professionalità che possono essere di supporto in un momento cruciale per questa regione. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di Mobit mettendo così la parola fine alla gara per l'assegnazione del servizio del trasporto pubblico regionale. Il Consiglio di Stato bocciando le tesi di Mobit ha consentito quindi alla regione di procedere con l'assegnazione del servizio ad Autolinea Toscana-Ratepe, la multinazionale francese cui la regione aveva giudicato la vittoria della gara. In realtà non ci sono da compiere atti nuovi, c'è soltanto da dare esecuzione a quelli che sono già avvenuti. C'è una gara, una gara europea che è stata bandita oramai anni fa e finalmente dopo questo lungo contenzioso penso che abbiamo l'ultima sentenza, una delle tante che ha decretato la correttezza della gara che è stata bandita e che è stata gestita dalla regione. Io devo veramente ringraziare la professionalità e il rigore dei dipendenti della regione che l'hanno seguita, l'avvocatura che l'ha difesa, perché il risultato è veramente un risultato importante anche sotto il profilo giuridico, perché questa è una gara che fa giurisprudenza in Europa. L'aspetto più importante ora è che si dia esecuzione a quello che la gara prevede, perché esiste già un contratto firmato con quelli che sono stati ulteriormente decretati i legittimi vincitori e questo penso debba avvenire nel migliore dei modi, con le modalità della maggiore collaborazione fra chi deve uscire e chi deve entrare nell'interesse ovviamente dei cittadini toscani. Intanto le sentenze come tali si rispettano e si accettano. Io spero che chi sia giudicato il servizio da oggi crea una situazione migliore rispetto a quella che c'è stata in questi anni, perché lo sappiamo benissimo di servizi che hanno sofferto i cittadini e che hanno sofferto anche i lavoratori, tutti coloro che ogni mattina si alzano per garantire il servizio per colpa di questa gara che è stata fatta all'otto unico e che ha comportato poi i ricorsi che abbiamo visto. Abbiamo avuto tanti anni in cui il TPL in Toscana non ha funzionato come dovrebbe funzionare in una regione nel 2021. Quindi noi speriamo e vigileremo sul fatto che le cose migliorino. Detto questo, noi l'abbiamo sempre detto, che il problema nasce da quando la decisione è stata presa. Pensare di accentrare come spesso fa il PD in Toscana e svuotare territori di competenze è qualcosa che a noi non ci trova assolutamente d'accordo. Crediamo che invece si debba fare il processo totalmente inverso. Bisognerebbe andare a riporre al centro i comuni, le province, quindi riportare tutti i servizi più vicini ai cittadini. Noi abbiamo contestato la scelta, che è una scelta tutta politica del PD fatta ormai qualche legislatura fa, che ha portato ricorsi e che ha portato disservizi. Quindi tutto quello che abbiamo visto diciamo che vada a trovare una situazione migliorativa, ma certo è causa solo ed esclusivamente di scelte politiche di Enrico Rossi e della sua giunta. La sentenza ha sicuramente tracciato una linea oltre alla quale è necessario costruire nuovamente un sistema di trasporto pubblico locale. Tanto più essenziale quanto più in questo momento stiamo assistendo a un grosso problema per quanto riguarda le infrastrutture principali che interessano la nostra regione e per questa ragione è necessario cercare di spostare maggiormente l'utenza al trasporto pubblico. Un trasporto pubblico che in questi anni ha avuto moltissimi problemi, si segnalano sulla costa, a Pisa ma anche a Livorno, dei guasti ai bus praticamente continui, disservizi, problemi anche per quanto riguarda la tutela degli autisti e delle persone che viaggiano. e in questo momento credo che ci sia bisogno di dare all'utenza un servizio efficiente, un servizio soprattutto che riesca a estendersi anche alle aree che sono meno servite e la regione si deve attivare da questo punto di vista per cercare di far sì che la sentenza abbia un'attuazione, che il passaggio avvenga a questo punto con tutti i crismi e soprattutto si ritorni di nuovo ad avere un'efficienza che in questi anni troppo tempo è mancata. Sicuramente la gara così come è stata improntata e con i sette anni di trascinamenti legali che ha avuto è stato un problema per tutti i toscani ma soprattutto ha fatto capire che anche la regione da questo punto di vista non è stata in grado di mettere su una gara come si deve e che non avesse tutti questi strascichi che purtroppo ci hanno portato alla situazione di adesso. La sentenza è molto chiara e il contratto prevede la tutela dei lavoratori, prevede una serie di tutela e di investimenti di tutta la Toscana, quindi quello che dovremo fare ora è sicuramente vigilare e controllare che tutto venga applicato come da regolamento perché così dovrebbe essere. Certo è, se mi si chiede, come ho dichiarato ieri, essendo io proveniente da una zona che è Prato, credo che con il cuore, come ho sempre detto, c'era stata una tifoseria che è ovviamente del tutto affettiva ma che è necessaria, di salvaguardare quelle che sono le esperienze in questo caso di 70 anni ma anche altre di buona amministrazione e quindi dell'indotto anche di un territorio. Quindi per noi è essenziale che i paletti che sono stati messi in questo contratto e in questa legge vengano rispettati a partire dai diritti dei lavoratori e poi di tutto l'indotto. Finalmente intanto è finita una situazione che durava da sei anni e che ha portato dei disagi incommensurabili agli utenti del trasporto pubblico locale perché non possiamo dimenticarci che negli ultimi sei anni, essendo in un regime transitorio e provvisorio, nessuno ha investito un centesimo su il trasporto pubblico locale. Questo ha portato in giro per la nostra regione autobus in stato precario, vi ricorderete tutti gli autobus incendiati, tanti autobus fermi lungo le strade, ha portato tante aziende, non tutte per fortuna perché qualcuno ha anche continuato a investire nella speranza magari di continuare a gestire il trasporto pubblico locale ma molti hanno dismesso gli investimenti e quindi abbiamo perso anche da un punto di vista patrimoniale. A me quello che oggi fa sconforto e lascia veramente basito è l'atteggiamento di alcuni politici del Partito Democratico, penso a uno su tutti Enrico Rossi che festeggia come se la nazionale avesse vinto gli europei. Ora capisco il clima d'Euro 2020 ma lui doveva essere il garante, l'arbitro, di solito alle partite di calcio l'arbitro quando finisce la partita anche se una squadra protesta e per un rigore non assegnato non è che l'arbitro esulta, qui siamo di fronte al trasporto pubblico che finisce in Francia, che finisce gestito dall'azienda di Stato francese e l'ex governatore della regione toscana dopo sei anni di controversie giudiziarie che esulta sui social come se avesse vinto la nazionale gli europei. Ed è tutto, grazie per la cortesia attenzione, cronache e commenti torna la prossima settimana. Grazie a tutti.